Buongiorno e benvenuti nella segna stampa di oggi, domenica 2 luglio, buona domenica a tutti quanti voi. Vediamo quali sono i temi della giornata. Quello fondamentale e noiosissimo è quello politico, perché che cosa è successo? Ieri ci sono state due piazze della sinistra che plasticamente sono state armate l'uno contro l'altra, mettiamola così. La piazza di Santi Apostoli a Roma, 5.000 persone, non di più, che sono state lì a celebrare Pisa, Pia e Bersani e diciamo la sinistra sinistra. E dall'altra, già che c'era, Matteo Renzi ha fatto una riunione di circoli a Milano con altre sue figurine storiche per poter contrastare la piazza di Roma. Che cosa è uscito da queste piazze? Intanto andiamo sulla piazza un po' più nuova rispetto alle due, anche se è straordinario il modo in cui Feltri è riuscito a sintetizzare la piazza di Roma. Un'arca di Noè di falliti, questa è la definizione di Bersani, Cuperlo, Pisapia, insomma questi signori sono un'arca di Noè di falliti. Devo dire che è sempre il castico e soprattutto molto duro Vittorio Feltri. Ma è certo che la piazza di Roma ha tutti i gueriti della sinistra che, se posso permettermi, a me proprio mi sta sulle balle. E c'è il messaggio di Claudio Amendola, che come sempre poi dopo oggi viene intervistato, dopo il messaggio viene intervistato e Claudio Amendola dice io sto con loro ma non mi candido, per carità, per carità dovesse perdere un contratto a Mediaset. E poi c'è il messaggio della Ferilli, che fino a prova contraria mi sembrava fosse diventata grillina, poi è diventata, mi sembra adesso invece molto amica del giro di Pisapia, la sinistra della sinistra, perché sono i sinistri, Amendola e la Ferilli. E poi l'immancabile messaggio della Ferilli, ovviamente in piazza si è presentato anche Orlando. Dicono le cronache che il ministro della giustizia si è presentato, ma ha cercato di non farsi vedere e anche si è messo dietro a un palo in maniera tale che non venisse fotografato, non ci fosse la foto, o porti uniti tra lui e Cuperlo. A parte queste minchiate, la cosa fondamentale è che un ministro del governo Gentiloni si presenti in quella piazza e soprattutto, fino a prova contraria, un uomo che ancora ha deciso di rimanere nel PD. Ma cosa vogliono questi della sinistra PD, i 5.000 di piazza Santi Apostoli? Vogliono due cose molto semplici, l'abolizione della riforma del Jobs Act, quindi dell'articolo 18, una delle poche cose buone fatte da Renzi, e la reintroduzione dell'Imu. Devo dire che questa è la sinistra destinata, come mi sembra che lo dice Cacciari in un'intervista oggi sul pubblico, qualcun altro, non che Cacciari poi sia, io lo metto sul livello della Ferilli e di Amendola, sono quelle specie di personaggi che sono lì, eterei, che dicono allora, io penserei, poi non si sporcano mai le mani. Ma comunque sia, queste persone vogliono quindi spostare a sinistra il PD, non si capisce se con Renzi, senza Renzi. Montanari, intervistato oggi da Repubblica, dice non ci sono andato perché in realtà questi vogliono ancora fare sostanzialmente l'accordo con il PD, mentre non si può e non si deve fare l'accordo col PD. Sentite, nel frattempo Renzi è andato a Milano, Galli della Loggia di Renzi dice dal 4 dicembre non è stato capace di dire nulla al paese, devo dire che Cacciari, Galli della Loggia, oggi. Invece Renzi da Milano, una cosa la dice molto semplice rispetto a questa tattica, dice che con l'Unione abbiamo già dato. Sostanzialmente non vuole questa riconciliazione di tutti quanti dentro. Questa è la cronaca politica per chi di voi è interessato. Quindi insomma da una parte Ferilli, Amendola, Orland, Pisapia, Bersani, dall'altra Renzi con le sue etichettine, cioè il professor Burioni ha ragione sui vaccini ma si tratta della persona più arrogante che io conosca sulla faccia della terra. Molto bello oggi quello che fa il giornale, secondo me, con grazie a Marco Copianchi, fa una pagina coraggiosa da 2 a 3 sui numeri. Beh, sapete quanti sono gli illegali che sono venuti in Europa, ovviamente dal Nord Africa negli ultimi anni? Siamo arrivati a quota 2,1 milioni. E sapete quanto pagano? Altro numero incredibile. Paghiamo noi alle ONG che si operano di migranti con i miei e i vostri soldi. Sai quanto gli diamo alle ONG per i migranti? 1,2 miliardi. Ecco, io toglierei tutti i soldi, tutto, sarebbe una manovra favolosa alle ONG. Il Sole 24 Ore è l'unico giornale che oggi parte con questa ipotesi, che non è un'ipotesi, la realtà del rinnovo dei contratti per gli statali. Sono 8 anni che non viene adeguato il contratto degli statali, ma questi 3 milioni di dipendenti pubblici, se dovesse essere confermato quello... Scusatemi, sono ancora raffreddato. Scusatemi. Se dovesse essere confermato, i dipendenti pubblici, i 3 milioni di dipendenti pubblici, si ciuccerebbero 5 miliardi di euro. Ovviamente i 5 miliardi di euro non è che nascono dagli alberi, sono i nostri soldi. Attraverso le nostre tasse che abbiamo pagato, paghiamo 5 miliardi di aumenti contrattuali per i dipendenti pubblici. Uno non ci può dire, vabbè, sono 8 anni che non hanno aumenti. A parte il fatto che in molti settori sono 8 anni che non si hanno aumenti, ma soprattutto gli aumenti in molti settori vengono definiti in funzione dell'aumento della produttività di quei settori. Vale per tutti, tranne che i cazzo di dipendenti pubblici. Loro si prendono 1100 euro all'anno in più, senza produttività, senza aumento della produttività. Anzi, i sindacati si sono opposti, e la Will ha detto, oggi c'è sul Sole 24 Ore, che questi 85 euro al mese, 1100 euro, compresa la tredicesima, sono aumenti tabellari, e quindi non devono essere legati alla produttività dei dipendenti pubblici. Allora, dico io, e questo è il modo per aumentare la produttività e rendere il paese più civile? No. Ovviamente in questo modo facciamo soltanto un danno a questo paese, perché diamo aumenti di stipendio, come si può dire, a tutti, senza criterio. Nel 2016 abbiamo speso 164 miliardi di euro per il stipendio dei dipendenti pubblici, nel 2011 abbiamo speso 169, 5 miliardi in meno nel 2011. Oggi ritorneremo a quei livelli. Inoltre, scusatemi, inoltre l'altra cosa stupenda è che siccome i dipendenti pubblici in gran parte hanno usufruito del bonus di 80 euro di Renzi, ma quel bonus si può ottenere soltanto se si ha un reddito massimo di 25 mila euro, grazie a questi mille euro di aumento pubblico, probabilmente alcuni avrebbero più di 25 mila euro, quindi non avrebbero più diritto al bonus di 80 euro. E quindi che cosa si fa? Per i dipendenti pubblici si sterilizza il bonus 80 euro, cioè gli si dà il bonus di 80 euro anche se hanno più di 25 mila euro di stipendio, grazie a questi eventi. Dite un po' voi se questa è una cosa giusta. Vasco, chiudo perché sono veramente raffreddato, devo andare a fare qualche cosa, Vasco, grandissimo, il suo concerto di ieri, nei numeri, probabilmente io l'ho visto un pezzo anche in televisione, era stupendo, ovviamente per noi chiamiamo le sue canzoni, e non altrettanto belli sono i commenti oggi, non perché siano brutti, ma perché, vedete, forse Vasco è talmente eccezionale, quello che è successo ieri è talmente eccezionale, che era difficile commentarlo bene. Oggi era interessante una piccola analisi che ha fatto Giordano, una parte della sua analisi sul giornale, in cui dice che meglio 100 mila volte il Vasco, diciamo rock star, che questi rave di cui i giovani impazziscono, diciamo che c'era un elemento di analisi in quello che dice Giordano, e per una volta buono serra, che dice oltre il cliché è andato Vasco, logoro della rock star. Devo dire che ieri c'era un mix di rock star, di nostalgia, di vecchie canzoni, di sentimentalismo, e con una voce, appunto, che non ha nulla, che questo lo scrivono un po' tutti, che non ha nulla di eccezionale, con parole che spesso non hanno nulla di eccezionale, però ci riportano agli anni che forse tutti noi abbiamo amato, però nel concerto di ieri, come si vedeva, chiaramente c'era anche molti giovani che ovviamente legano la loro gioventù molto meno alle canzoni di Vasco. Detto questo, tutti hanno titolato sul concerto contro la paura, a me sarebbe piaciuto avere qualche analisi di più sul fatto che un fenomeno come Vasco riesca ancora ad attirare così tanta gente, e la questione è che più mi intrigava a me, e io vi saluto, vi do appuntamento domani, spero un po' meno raffreddato. Ciao ciao!